Noi vogliamo fare che cosa? Vogliamo conquistare un seggio, due seggi, il 4%, noi vogliamo cambiare l'Europa, vogliamo cambiare l'Europa perché non è tollerabile che questa Europa che viene da una storia anche di tormenti, di guerre, ma anche di grandi rinasciti, di grandi speranze, di grandi ideali, che ha vissuto la tragedia della seconda guerra mondiale e può essere imboccata alle maniche e ha cercato di ricostruire una unità anche tra i suoi popoli. Non è tollerabile che l'Europa stia partecipando oggi, o meglio non partecipando, a un mondo che sta andando verso la catastrofe, verso il suicidio, verso il reciproco massacro. Non è possibile. E noi quindi stiamo facendo questa battaglia non per entrare anche noi dentro questo groviglio della contesa italiana tra piccoli o grandi partiti, ma noi siamo qui proprio perché vogliamo portare in Europa, vogliamo dire a Strasburgo, vogliamo dire all'Europa, che deve assumere le sue responsabilità per la pace nel mondo, perché se cambia l'Europa, l'Europa può diventare un grande soggetto politico che interviene nella dialettica mondiale di oggi, che dice per esempio all'America, no, la strada non è quella di tendere al dominio del mondo, il modo di rapportarsi tra i paesi della terra non è la competizione strategica, non è la sfida, le potenze contrapposte, prima neutralizziamo la Russia, poi facciamo la sfida finale con la Cina, non è possibile che questa sia la prospettiva del mondo, non è possibile che si accetti che la terra non è una, che la terra può essere lasciata perdere nei suoi dissesti, nei suoi disastri ecologici, senza che nessuno prenda veramente la responsabilità del futuro, perché non solo la terra si salvi, ma perché la storia continui, la storia è una cosa troppo importante perché è il luogo dove intere generazioni, dove una umanità intera ha vissuto la propria prova, ha vissuto i propri dolori, le proprie speranze, non possiamo permettere che la storia si fermi, che vada a finire dentro un crogiolo di odio, di liti, di massacri, di orrori, questo è il punto, allora cambiare l'Europa perché l'Europa cambia il mondo, perché guardate non è un'ambizione troppo grande dire questo stasera, bisogna cambiare il mondo, è un mondo che dobbiamo prendere in mano, non lo possiamo lasciare rotolare così come sta rotolando verso la rovina, in mano a stati e a classi dirigenti che non hanno nessun senso della responsabilità che viene loro dal loro potere, non solo per ciascuno, ognuno per il suo stato, per il suo focolare, ma ognuno per tutti, perché solo se ognuno opera per tutti, assume il problema e la vita di tutti gli altri, solamente così la salvezza si può conseguire. E adesso parliamo di cosa? Parliamo di questa parola proibita, genocidio, che purtroppo è tornata nell'attualità delle nostre cronache, non solamente delle ricerche dei nostri storici, il genocidio come parola attuale, come parola che ci investe. E come mai volevano spegnere questa, non volevano che noi usassimo questa parola, non volevano, perché? Perché si veniva dall'esperienza di un genocidio che sembrava l'unico possibile, l'unico genocidio che si dovesse ricordare, questo terribile, questo spaventoso genocidio che è stato la Shoah, questi sei milioni di ebrei che sono stati sacrificati. E allora dopo di quello sembrava che non solo non ci dovessero mai più essere un genocidio, ma neanche si potesse usare questa parola. E invece questa parola purtroppo la dobbiamo usare. E la dobbiamo usare non più solamente per quel genocidio, ma la dobbiamo usare perché dobbiamo assumerci veramente la vita e il dolore di molti popoli, non di un solo. Noi siamo cresciuti alla scuola di Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un grande cristiano, un pastore protestante, che è stato impiccato a Flossenburg da Hitler, perché era stato accusato di partecipare alla lotta anti-hitleriana della chiesa confessante tedesca e di aver partecipato al complotto contro Hitler. E Bonhoeffer, che è stato anche il grande innovatore della teologia contemporanea, Bonhoeffer ha scritto nelle sue ultime lettere una frase. Chi non grida per gli ebrei non può cantare il gregoriano, vale a dire chi non si prende su di sé il dolore del genocidio, dell'olocausto, non può continuare la vita normale, non può continuare a fare quello che faceva prima, se prima non grida per gli ebrei. Ebbene oggi noi dobbiamo dire chi non grida per i palestinesi non può cantare il gregoriano. E allora questa parola, questa parola che ci volevano togliere dalla bocca, ritorna con forza, ma perché? Cosa sta succedendo a Gha? È legittimo che noi parliamo di un genocidio? Il genocidio vuol dire la distruzione di un intero popolo, attaccare anche il futuro di questo popolo, i bambini, sventrare le donne incinta, rovesciare le incubatrici, questo vuol dire il genocidio. E poi c'è una convenzione dell'ONU contro il genocidio che dice che anche il far morire o l'insidiare la vita anche solamente di alcuni membri di una nazione, di un gruppo, di un'etnia, se lo si fa per colpire quel gruppo, che l'etnia, quella nazione, quello è un genocidio. E allora quello che sta accadendo a Gaza contro i palestinesi è un genocidio. Guardate, hanno fatto un'operazione veramente molto sofisticata, ma molto grave. Avevano subito certamente questo terribile attacco di Hamas del 7 ottobre, questa inqualificabile forma di guerra, di terrorismo. E allora la risposta quale doveva essere? La difesa, doveva essere la ritorsione a questa azione di Hamas. E qual è l'operazione che hanno fatto? Voi sapete, nei nostri computer c'è una funzione che si chiama rinomina. Rinomina. Allora hanno preso i palestinesi, tutto il popolo palestinese e l'hanno rinominato Hamas. E allora con questo pretesto di combattere contro Hamas, di avere come obiettivo i dirigenti di Hamas, stanno in realtà uccidendo tutto il popolo palestinese, tutto il popolo palestinese della striscia di Gaza, ma poi non solamente della striscia, anche della Cisgiordania, perché anche nei territori occupati è in atto un massacro, è in atto una oppressione che forse è meno conosciuta, ma è altrettanto grave. Perché? Perché mira a rendere impossibile la sopravvivenza di un popolo palestinese all'interno dello Stato, all'interno del territorio dello Stato di Israele. Oggi si parla, e tutti un po' quasi per discolparsi, parlano della possibilità di istituire due Stati, ma oggi è fisicamente quasi impossibile, con 750.000 coloni che si sono impadroniti attraverso 250 coloni, pezzo per pezzo della terra palestinese, hanno dimolito le case, hanno disradicato gli olivi, hanno messo barriere, hanno impedito il passaggio da una parte all'altra. Com'è possibile pensare a uno Stato? E allora questa è la tragedia di fronte a cui noi ci troviamo. E allora qual è la prospettiva, qual è la speranza, qual è l'uscita da questa situazione? Guardate, c'è una, come dire, la dichiarazione di una specie di impossibilità che con Israele non ci sia niente da fare, perché Israele ha una tradizione, usa una sorta di fondamentalismo religioso, si appella a scritture sacre per affermare la irrinunciabilità del proprio potere, per affermare l'unicità dell'identità di Israele che si identifica con il popolo ebreo, con una sola etnia, e che quindi esclude, come dice, la legge fondamentale che è stata approvata nel 2018, esclude l'autodeterminazione di qualsiasi altro popolo che non sia il popolo ebraico. E questa è l'immagine, la figura che Israele presenta di se stesso. Ma non è solamente così. Israele non è solo questo. Israele viene da una storia che è una storia anche di grande valore, che viene di grandi tradizioni, di grandi doni fatti all'umanità. Israele non è solamente una tradizione che si può far riferire, si può far risalire a quei libri storici in cui si sono visti per la prima volta esaltati gli stermini e i genocidi, il primo genocidio che si ricorda nella storia, almeno che tramandata dai libri storici della Bibbia, quello di Gerico, e anche il genocidio di Ai, due città cananee che sarebbero state le prime conquistate dalle tribù ebraiche guidate da Giosuè. Ma non è vero. Quelli non sono libri storici. Questo eccidio di Gerico si riferisce a qualcosa che sarebbe accaduto nel XIII secolo avanti Cristo, ma questo libro è stato scritto sei secoli dopo, non è credibile, non è quello. Quindi non è questa la tradizione a cui necessariamente si deve riferire uno stato pieno di armi e di violenza come quello di Israele. C'è un'altra tradizione, la tradizione del profetismo, la tradizione di Isaia, di Michele, di Osea, questa idea di cambiare le spade in falci e di abbattere i carri del faraone. Questa idea che bisogna disimparare l'arte della guerra. La guerra non è spontanea, non è in natura. La guerra è stata inventata da un artificio. Bisogna disimpararla. Allora c'è un'altra tradizione di Israele a cui ci si può riferire. E allora il punto qual è? Il punto sarebbe di separare, di separare questa idea di questo stato di Israele così come si presenta oggi e il popolo ebreo nel suo complesso. Noi non possiamo identificare la violenza, l'aggressività dell'attuale stato di Israele così come è governato da Netanyahu, dai partiti religiosi. Non lo possiamo identificare con il popolo ebreo come tale. Per cui si usa il ricatto di tacciare di antisemitismo chiunque critiche e critiche giustamente lo stato di Israele. Non è antisemitismo questo. Non è antisemitismo criticare le politiche di Israele, criticare il modo in cui sta conducendo questo suo massacro, questa sua guerra a Gaza. E guardate, non sono solamente diciamo gli avversari o gli antagonisti, ma gli ebrei stessi. La stessa Segre l'altro giorno tentava di stabilire una distinzione tra il popolo ebreo e lo stato di Israele. E c'è un grande rappresentante dell'ebraismo, mi riferisco a Sanders, questo leader democratico americano, che proprio di fronte all'accusa che Israele fa ai giovani universitari americani che si rivoltano contro le azioni dello stato di Israele, le accuse che si fanno a tutti quanti criticano questa politica. Sanders ha scritto una lettera a Netanyahu e gli ha detto no signor Netanyahu, non è antisemita sottolineare che in poco più di sei mesi il suo governo estremista ha ucciso 34.000 palestinesi e ne ha feriti 77.000, il 70% dei quali donne e bambini. Non è antisemita sottolineare che i vostri bombardamenti hanno distrutto 221.000 abitazioni a Gaza lasciando senza casa un milione di persone quasi la metà della popolazione. Non è antisemita notare che il suo governo ha cancellato le infrastrutture civili di Gaza e si potrebbe citare soprattutto gli ospedali, tutto il sistema sanitario che è stato distrutto proprio per impedire non solo la vita di oggi ma anche la vita futura del popolo palestinese. Allora qual è la via che si può cercare per uscire da questa tragedia? La via che appunto si stabilisca una distinzione, una separazione tra lo Stato di Israele e così com'è e la grande tradizione della diaspora ebraica, del popolo ebraico perché anche il popolo ebraico è in pericolo oggi. Lo Stato di Israele mette in pericolo tutto il popolo ebreo che vive nel mondo. Questa è la verità. E noi in realtà abbiamo due popoli da salvare. Non dobbiamo salvare solo il popolo palestinese. Dobbiamo salvare anche il popolo ebreo perché sta suicidandosi con queste politiche e con questa ideologia che ha sposato. Salvare questi due popoli come si può fare? Anzitutto certo con la politica cercando di premere cercando di ottenere un armistizio, un cessato il fuoco immediato nella striscia di Gaza e poi un'apertura a un futuro diverso anche in Cisgiordania. Ma come possiamo fare per dare il segno di questa assunzione da parte di tutta la comunità internazionale dell'interesse a che questi due popoli possano sopravvivere? perché se si continua la situazione come oggi non c'è che la prospettiva del genocidio o di un popolo o di un altro perché se si stabilisce la incompatibilità se si stabilisce che se c'è il popolo ebreo che vive in Israele non ci può essere il popolo palestinese oppure se il popolo palestinese deve riconquistare la sua terra deve buttare a mare Israele questo vuol dire che non c'è soluzione se non il genocidio degli uni o degli altri e noi invece dobbiamo salvare tutti e due allora c'è un modo in cui la comunità internazionale può esprimere questa volontà io suggerirei credo che lo suggeriremo anche nella nostra campagna elettorale e poi forse se riusciremo ad andare a Strasburgo anche in sede europea che la comunità internazionale assuma questa responsabilità di far sopravvivere questi due popoli e come lo può fare? Voi sapete che c'è una convenzione dell'UNESCO che tutela il patrimonio mondiale il patrimonio dell'umanità si parla di un patrimonio che sono i grandi siti storici che sono le grandi realizzazioni materiali non sono i popoli non sono gli uomini però quale patrimonio maggiore è se non quali patrimoni maggiori sono se non i popoli quali sono i veri patrimoni da salvaguardare quali sono i veri valori da custodire e da trasmettere alle generazioni future questa convenzione dell'UNESCO è ispirata all'idea che ci sono dei beni dei valori così importanti nella storia umana che vanno che ricordano il nostro passato e che devono essere trasmessi alle generazioni future ebbene non dobbiamo trasmettere alle generazioni future i valori di cui è portatore il popolo di Israele la fede di Israele la tradizione di Israele e i valori di cui è portatore il popolo palestinese il popolo da cui è uscito da cui sono usciti i patriarchi i profeti la stessa nascita di Gesù non dobbiamo noi trasmettere questo patrimonio da una generazione all'altra dalla nostra generazione alle future generazioni e non dobbiamo quindi far sì che tutta la comunità internazionale si assuma questa responsabilità e che garantisca la continuità di questo patrimonio e poi vorrei dire un'altra cosa c'è il genocidio della Palestina ma non c'è solamente quel genocidio genocidio ce ne sono stati tanti il novecento è stato pieno di genocidi il primo è stato il genocidio del popolo erero della Namibia e lì furono i tedeschi i coloni che andarono in Namibia per impossessarsi di quelle ricchezze il tung seno l'uranio il rame l'oro e per la prima volta si stabilirono lì i campi di sterminio ci fu una grande carneficina ci fu una grande genocidio del popolo erero e poi del popolo e popolama che fu una specie di prova generale di quello che poi sarebbe stato il genocidio della Shoah i campi di sterminio e anche l'affermazione della inferiorità di un'etnia rispetto alle altre per cui c'erano questi soldati tedeschi che avevano soggiogato la Namibia che vendevano i crani che vendevano i resti delle vittime perché venissero studiati nelle università tedesche per dimostrare la inferiorità razziale etnica di quel popolo quindi il genocidio non è una cosa eccessiva purtroppo c'è continuamente il genocidio con cui avere a che fare ma soprattutto possiamo dire che oggi ogni guerra è un genocidio perché le guerre del passato si perfino tentato di regolarle dentro il diritto di fare il diritto umanitario di guerra di dire che le vittime civili erano vittime collaterali erano effetti collaterali della guerra oggi le vittime civili non sono effetti collaterali sono direttamente l'obiettivo delle guerre si devono colpire le popolazioni per estirpare il nemico permettere veramente di neutralizzare il nemico quindi è la guerra che va combattuta è la guerra che va esorcizzata ed è la guerra che va messa al bando così come si mette al bando il genocidio e allora dobbiamo anche far terminare la guerra d'Ucraina non è possibile che noi continuiamo a tenerci questa guerra in Europa senza che nessuno faccia nulla veramente per porre termine a questa guerra la prima cosa da fare sarebbe un armistizio che tiene le cose ferme così come stanno ma che permette l'apertura di uno spazio di trattativa di negoziato per fare un mondo diverso perché oggi in realtà quello che sta accadendo non è altro che una continuazione della vecchia guerra fredda che sta ridiventando calda senza neanche l'ostacolo senza neanche senza neanche il tabù che oggi è caduto del terrore nucleare perché si ammette ormai tranquillamente che si possa fare anche una guerra atomica una guerra nucleare Biden nei suoi documenti programmatici sul futuro dell'America ha scritto il post guerra fredda è finito come è finito questo post guerra fredda ma se hanno allargato le frontiere della NATO in Europa ripropongono la vecchia contraddizione con quella che era l'Unione Sovietica che adesso è la Russia programmano la sfida finale con la Cina come è finito questo post guerra fredda è ancora quella è ancora quella cosa lì e allora bisogna veramente prendere in mano il mondo e cambiare questo modo di concepirlo questo modo di gestirlo questo modo di governarlo e io penso che anche lì ci siano delle invenzioni da fare delle invenzioni della politica delle invenzioni del diritto che si possa pensare a per esempio a rimettere in discussione i limiti e le i limiti di questa piccola Europa piccola non solo nelle sue dimensioni perché si è ingrandita ma piccola nella sua mentalità nelle sue politiche nelle sue impostazioni ritornare a pensare un'idea che si allarghi un'Europa che si allarghi un'Europa che arrivi a comprendere anche la Russia un'Europa che ritrovi veramente la sua ispirazione originaria un'Europa la quale da tanto tempo si è pensato a questa Europa dall'Atlantico agli Urali fu De Gaulle che cominciò per primo a dire che la vera dimensione dell'Europa non si fermava all'Odergnese non si fermava sulla cortina che era stata eretta tra l'Europa Atlantica e il mondo sovietico ma non si ferma neanche questa Europa sulla nuova cortina che è stata eretta tra l'Occidente e il mondo e il mondo dell'Oriente la Cina la Russia questa cortina di cadaveri come tante volte ci ricorda Michele Santoro allora un'Europa che ripensi se stessa e allarghi le sue frontiere allarghi le sue dimensioni allarghi anche la sua ideologia il modo di pensare se stessa e possa veramente ricomprendere anche la Russia in una unità europea e di nuovo rifondata in modo che sia compatibile con il futuro del mondo e con la continuazione della storia grazie